Il POMI viene distribuito in tutto il mondo e per distribuirlo vengono utilizzate varie tipologie di mezzi, sia tramite camion, quindi su strada, e si punta invece anche ad utilizzare il discorso dell'intermodale, quindi con trasporti che sfruttano sia il treno sia la via marittima navale. Allora, dagli stabilimenti partono all'incirca 600 container all'anno destinati verso tutto il mondo, solo come tipologia container di spedizioni, il resto viene fatto tramite stradale o intermodale. Nella logistica, allora, la sostenibilità del trasporto viene applicata portando il trasporto verso l'intermodalità, quindi cercando di levare il più possibile i camion su strada e utilizzare quindi mezzi ferroviari o nave. La cosa più importante nella logistica è ottimizzare al meglio tutti i flussi relativi all'ingresso e l'uscita delle merci dei vari stabilimenti e dei vari magazzini di stoccaggio. Lavorare in POMI è bello in quanto è un lavoro assolutamente dinamico e ci sono sempre sfide nuove davanti per risoluzioni di problemi e richieste nuove da parte dei clienti. Il prodotto POMI è buono in quanto parte da una materia prima ottima e in più i processi produttivi sono all'avanguardia.